Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, la storia di Patrick Zacchi la conosciamo tutti molto bene, questo attivista egiziano che studia a Bologna e che qualche anno fa, dopo un suo rientro al Cairo, in Egitto, dove ha la famiglia, era stato arrestato perché a quel regime, al regime egiziano, non piacevano alcune sue posizioni esternate sui social. Una lunga trafila, anni sicuramente per lui e la famiglia di Dolore e poi sappiamo tutti com'è finita, con una condanna a tre anni, ma con la grazia concessa dal presidente egiziano, tutto assolutamente previsto da un punto di vista politico, anche per quel regime che in questa maniera ha voluto fare la parte del regime buono, del regime che viene incontro, alle esigenze, insomma tutte storie che abbiamo descritto e che conosciamo molto bene. Ora c'è l'ultimo, forse, l'ultimo capitolo di questa storia, anche questo assolutamente non sorprendente, ma nelle cose ormai la sinistra ci ha abituato a questi tipi di comportamenti, a queste procedure, soprattutto quando poi la giunta comunale, in questo caso quella di Bologna, è di sinistra e ha deciso di accordare la cittadinanza a Patrick Zaki. Ora la cosa dal mio punto di vista assolutamente inaccettabile è il fatto che se uno ha i requisiti, allora voglio dire benvenga. Chi mi conosce da tanti anni sa che io ho una moglie sudamericana che vive in Italia ormai da oltre 20 anni, che qualche anno fa, dopo un iter burocratico non da poco, ha ottenuto la cittadinanza, essendo lei tra l'altro poi anche sposata un cittadino italiano, cioè il sottoscritto, l'iter è stato anche meno complicato, però ci sono voluti i suoi anni e uno dei requisiti che io reputo fondamentale è quello perlomeno di parlare la lingua italiana, che mia moglie parla fluentemente, mentre Patrick Zaki, non so se per qualcuno è una sorpresa oppure no, l'italiano non lo parla. Ma chi se ne frega, dice la sinistra, quando per noi è conveniente strategicamente concedere appunto delle cittadinanze a personaggi che poi potrebbero portare voti, potrebbero assumere delle posizioni così di guida o di posizione di prestigio all'interno del partito, ma chi se ne frega se non parla l'italiano. Ecco, vedete, queste sono le cose che dovrebbero farci indignare, perché poi dall'altra parte ci sono cittadini stranieri che magari vivono da molti anni in Italia, anche giovani, che invece questo risultato non lo ottengono o non lo ottengono almeno in tempi così brevi come è successo per Patrick Zaki. Ora subito ovviamente il centrodestra si è detto contrario, vedremo questo braccio di ferro come si concluderà, ma ripeto, ancora una volta si dimostra che è solo una questione di speculazioni politiche che non si va nel merito, che per qualcuno ci sono delle scorciatoie, ma queste scorciatoie ci sono sempre, ripeto, se alla sinistra può portare dei vantaggi. Abbiamo visto la storia di tanti altri personaggi, non ultima quella, vi ricordate, di Sumaoro, che non avrebbe assolutamente, visto quello che poi è venuto fuori, non avrebbe avuto i diritti, per quanto è successo e neppure di candidarsi, perché i candidati devono avere una felina penale integerrima e così via. Però ripeto, staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.